Però, pensavo di poter sistemare tutto senza dovermi trasformare in questo modo. Perdona, Miduff. Ho un po' esagerato e ho lasciato che tu venissi colpito con troppa intensità. Come farei se morisse l'unico uomo che non viene distrutto quando mi prende fra le sue braccia? Comunque, ti avevo fatto una promessa, giusto? Se ben ricordi, ti avevo detto che se fossi riuscita a colpermi con la tua spada anche una volta sola, ti avrei rivelato il nome dell'uomo del nord. E va bene, posso anche rivelartelo. In fondo te lo meriti, visto che ti sei data così tanto da fare. L'uomo che vorresti trovare... ...vive nella terra del nord, a Alphonse, coperta di neve e di ghiaccio. Il re dell'argento, Isley. Vive nella terra del nord chiamata Alphonse. Il re dell'argento, Isley. Se vuoi uccidere quell'uomo, prima o poi dovrei allearti con me, credimi. Non c'è altro modo. Aspetto una tua decisione. Noi due ci rivedremo. Un essere enorme che svanisce così... ...è incredibile. Dannazione. Ma allora è questa la vera potenza delle creature chiamate Asali. È lontano. Quel momento è terribilmente lontano. Haa... Haa... ... ... ... ... ... ... Grazie.